Dunque, ci sono oltre 6 milioni di persone in Italia che sono tra la povertà assoluta, la povertà relativa e sulla soglia della povertà. 6 milioni di persone che si portano dietro delle famiglie, che sono in gravissima difficoltà. I 737 mila che hanno perso il reddito di cittadinanza, numeri del governo, adesso stanno aumentando quelli che prendono l'assegno di inclusione, sono arrivati a 550 mila, quindi non era un provvedimento totalmente sbagliato, addirittura dirò di più, la media dei percettori prendeva 550 euro il reddito di cittadinanza, con l'assegno di inclusione addirittura 650 euro. Chi rimane fuori? Rimane fuori soprattutto il lavoro povero, che in Italia purtroppo è tanto, non ci sono imprenditori farabutti, però ce ne sono alcuni che sottopagano i ragazzi, tant'è che c'erano 200 mila persone, mettete in fila 200 mila persone, che prendevano il reddito di cittadinanza nonostante avessero uno stipendio, quindi era uno stipendio da fame e quelli sono rimasti senza niente. Coloro che sono occupabili, che è questa creazione meravigliosa di questo governo, gli occupabili senza occupazione evidentemente, perché altrimenti piuttosto della fame preferirebbero andare a lavorare, visto che il reddito di cittadinanza è stato abolito. Bene, di questi 200 mila ci sono 27 mila e basta, quindi 10% circa, che hanno avuto accesso ai corsi di formazione e ricevono la mancia di 350 euro al mese. Quindi nel complesso, il quadro che ci danno i numeri e non le opinioni, ci dice che questo è un governo che non fa la battaglia contro la povertà, fa la battaglia contro i poveri e quando, diceva giustamente Donno, predilige le grandi banche che hanno fatto extra profitti, io non ce l'ho con il profitto, io ce l'ho con l'extra profitto. È un governo che crea lavoro. Non avete avuto il coraggio di tagliare di tagliare, crea lavoro. Non l'avete. Avete fatto 18 condoni, quindi avete favorito i furbi e il combinato disposto tra reddito e cittadinanza tolto e salario minimo non garantito, crea sempre più poveri. Questa è la verità, mi dispiace. Perché testeggia Sommi? Testeggio perché il quadro non è reale. Voglio dire, il reddito di cittadinanza in questo momento non c'è. E cosa ci dicono gli imprenditori? Che non trovano lo stesso lavoro. Allora la colpa non era del reddito di cittadinanza, la colpa è che probabilmente ci sono delle paghe da fame, tant'è che uno non accetta e preferisce una nuova occasione. Non arrivano alla fine del mese questi ragazzi. Possono non accettare un lavoro minimo? È impossibile. Lo dicono gli imprenditori stessi. Non è cambiato nulla con l'abolizione del reddito. Sentiamo la signora Meri. La colpa non era del reddito. Chiaro.